L'8 e il 9 giugno votiamo per il rinnovo del Parlamento europeo, come già ben sapete e come vi ho ricordato in altre occasioni. Vi invito a votare per Forza Italia, diamo forza a Forza Italia e votiamo il nostro coordinatore regionale parlamentare europeo, capogruppo del PPE a Bruxelles, Fulvio Martuscelli. Scrivete Martuscelli. Per questo motivo devo ringraziare tutti gli amici e i nuclei familiari che mi hanno gratificato del loro assenza, devo ringraziare anche tutti quelli che non sono riusciti a contattare e che nelle modalità che sto mettendo in campo con questo messaggio io ringrazio se vorranno aderire alla mia richiesta. Un voto importante, come già vi ho detto in un'altra occasione, ma è un voto importante neanche per la città di Battipaglia. Forza Italia vuole diventare un grande partito a livello cittadino per poter esprimere poi in un secondo momento anche una persona che possa ricoprire il ruolo di sindaco in un'ampia coalizione. Quindi diamo forza a Forza Italia anche per sostituire questo degrado morale, civile, politico, spirituale e politico-amministrativo in cui è sprofondata l'amministrazione comunale di Battipaglia. L'8 e il 9 giugno, date forza a Forza Italia, scrivete sulla scheda elettorale Martuscelli. Grazie.